La famiglia al tempo della crisi è il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Anti-Usura CRT, cui ha partecipato anche il Consiglio regionale con l'Osservatorio per il Fenomeno dell'Usura. Dai dati presentati, in Piemonte sono 6.000 le vittime dell'usura, per un giro d'affari stimato in 700 milioni di euro. 80.000 sono i piemontesi colpiti dalla ludopatia. Negli ultimi tre anni, le richieste di aiuto giunte agli sportelli della Fondazione Anti-Usura CRT sono aumentate di oltre 70%. La Salupa CRT Onlus è una fondazione anti-usura che cerca di aiutare le famiglie di difficoltà, rimodellando i loro debiti e cercando soprattutto col Consiglio, con l'amicizia e con la stima, gratuitamente di aiutare la famiglia a uscire fuori dalla crisi. Fino adesso abbiamo aiutato oltre 10.000 famiglie e se c'è bisogno, abbiamo nostro salvagente, che è la fiducia nostra bancaria, in maniera che la famiglia possa riprendere i rapporti con la banca.